Benvenuti nel mondo degli orologi Languntine. Languntine è un marchio di orologi di lusso creato nel 2001 da Marco Lang e Mirko Hein. La sede dell'azienda si trova a Dresda, in Germania, dove i loro orologi vengono creati a mano da artigiani altamente qualificati. Languntine è famosa per la sua attenzione ai dettagli e per l'utilizzo di materiali di altissima qualità. La collezione di Languntine comprende diversi modelli, tra cui il Friedrich III, il Georg, l'Augustus e molti altri. Ogni modello è caratterizzato da un design unico e da una lavorazione artigianale di altissimo livello. I movimenti utilizzati sono svizzeri, di altissima precisione e affidabilità. La produzione di Languntine è limitata a pochi esemplari all'anno, il che rende i loro orologi molto esclusivi e ambiti da collezionisti e appassionati di orologeria. La loro attenzione ai dettagli e alla qualità è eccezionale, e ogni orologio è creato con grande cura e passione, utilizzando solo i migliori componenti. L'azienda utilizza solo materiali di altissima qualità, come l'oro rosa e bianco, il platino e il per creare i loro orologi. Ogni componente viene lavorato a mano, creando un'esperienza unica per chi indossa un orologio Languntine. I modelli di Languntine sono molto riconoscibili, grazie al loro design unico e alla lavorazione artigianale. Il modello Friedrich III, ad esempio, presenta un quadrante con numeri romani, lancette a cattedrale in oro rosa. Il modello Georg, invece, ha un design più moderno, con lancette in acciaio azzurrato. In conclusione, Languntine è un marchio di orologi di lusso che si distingue per la sua attenzione ai dettagli, alla qualità e alla sostenibilità. Se stai cercando un orologio di lusso che rappresenti l'eccellenza dell'orologeria artigianale, Languntine è sicuramente un marchio da prendere in considerazione.